Uomini e donne oggi, scontro tra Gemma e Giorgio, una coppia si lascia Oggi uomini e donne, Giorgio attacca Gemma, Vincenzo e Anna Maria si lasciano. Nuova scoppiettante puntata del Trono Over. A Uomini e donne vedremo un nuovo scontro tra Gemma e Giorgio. La Galgani sta uscendo sia con Riccardo che con Guido. Entrambe le conoscenze proseguono per il meglio. . Una volta entrata in studio, la dama di Torino racconta le sue sensazioni. . Intanto, Manetti prende la parola per definire la sua ex finta in tutto quello che sta facendo e dicendo. . Di fronte alle parole del cavaliere del parterre maschile, l'ormai storica protagonista della trasmissione in onda su Canale 5 non ha potuto far altro che replicare. . Alla fine, si apre un nuovo botta e risposta tra i due ex. . Ad intervenire sull'attuale situazione sentimentale della Galgani anche Marco Firpo e Sossio Aruta. . Si passa poi ad una coppia che è nata nel corso delle precedenti registrazioni. . Vincenzo e Anna Maria hanno provato a frequentarsi, ma le cose non stavano andando per il meglio. . I due sembravano piacersi davvero molto, lei è andata da lui per capire se tra loro ci fosse i presupposti per vivere insieme. . In ogni caso, la diversa religione e tante altre cose hanno fatto sì che i due decidessero di chiudere la loro conoscenza. . . Oggi, i due sono in studio e la dama sembra essere molto arrabbiata. . Anna Maria racconta di come sono andate le cose e sembra essere rimasta molto delusa dal Cavaliere. . A grande sorpresa, inoltre, la dama dà anche ragione a Tina su tutte le cose dette nei riguardi di Vincenzo. . . Uomini e donne, trono over, lite tra Vincenzo e Anna Maria. . Alla fine, entra anche Vincenzo. . . I due discutono e decidono di chiudere ogni rapporto. . . Ubaldo racconta di aver conosciuto una donna al di fuori dello studio e per questo ha deciso di lasciare la trasmissione. . . Giorgio continua a vedere Paola, ma per lei cè anche una nuova signora che, però, non trattiene. . . Si apre poi luna nuova diretta Facebook. .